Un confronto aperto sul futuro del Comune di Napoli e quanto avverrà nelle prossime ore con esponenti dei sindacati della società civile e ovviamente della politica. A organizzare il dibattito il partito Fratelli d'Italia che ha presentato l'iniziativa nell'aula Nunes di Via Verdi e proprio sul distesto del Comune il deputato Marcello Taglialatela manda un messaggio chiaro al sindaco. Io penso che sia forse più importante salvare De Magistris da un tracollo di carattere personale. Io ho la sensazione che sia sempre meno lucido e che purtroppo questa sua mancanza di lucidità stia portando Napoli verso il disastro. Insomma non è possibile veramente attendere le sue dimissioni, non so se verranno o non verranno. Io nel frattempo voglio lavorare per il futuro. Non mancano riferimenti alla politica nazionale con la bagarre in aula nella conversione del decreto IMU-Banchitalia e Taglialatela che non esita a parlare di quasi tradimento da parte del presidente della Camera Boldrini e del presidente della Repubblica Napolitano. Io ho lanciato monete, ho fischiato, ho esposto cartelli e se avessi potuto fare di peggio l'avrei fatto perché penso che la cosa vergognosa che il presidente della Camera Boldrini e anche il presidente della Repubblica Napolitano hanno permesso è la svendita di Banca Italia. Perché quello che la gente non ha capito, che in parte non ha capito, è che all'interno del decreto cosiddetto IMU, facendolo apposta, hanno inserito di fatto la privatizzazione con un grande vantaggio economico per le banche private, italiane e non. E mi pare che questo sia un elemento che rasente il tradimento.